ATTENZIONE VOLATI QUINDICI DI DIETREI, DIETRO CICOSTE CINQUA LA SPIGLETERIA Il proprietario ci ha chiamato al 113 Ma non sappiamo il motivo, ha chiesto solo di intervenire DIETRO CICOSTE CINQUA SCO, SCO, SCO A tutte le volanti, a tutte le volanti Stiamo facendo un inseguimento, una Q3 Audi nera Non si è fermato al posto di blocco Target Z210VN Vogliamo rinforzi progeti No O Fermo Fermo, dai un cuai Stai zitto! 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 Grazie a tutti.